Alternanza scuola lavoro, centro chirurgico toscano, liceo scientifico di Arezzo, è stata una bella esperienza Fantastica, i ragazzi del liceo scientifico, molti ragazzi del liceo scientifico che sono venuti da noi a vedere sostanzialmente come funziona un ospedale lezioni teoriche poche e attività pratica di più, a noi ci ha dato soddisfazione e ha portato allegria dentro un luogo che normalmente non è proprio l'allegria il sentimento che domina dentro un ospedale, loro ci hanno portato anche l'allegria e comunque sia è bello che due attività, due momenti della vita della nostra città così distanti, l'ospedale e la scuola, collaborino per fare squadra, per fare in modo che questa città si senta più unita a me ha dato soddisfazione e spero che lo stesso sia stato per loro Non si ferma qui, continuerete anche il prossimo anno? Sì, continueremo, quest'anno questa esperienza sta volgendo al termine, continueremo anche il prossimo anno e come sempre avendo fatto tesoro dell'esperienza accumulata sicuramente faremo meglio